no però con la volta io mi cambiò l'aria il semaforo e togli già cupa che cupa io mi bagna che cupa io mi bagna ferma il semaforo pronta a partire e gir la testa ecco il da cantami l'al dintel nas tutto concentrato sguira il fornillo e salende se barda tirano fuori al baban e cominci a giocare tirano fuori al baban e giaron tu le barda fuori e se per brui una sistemazione duello che t'acca e si è spesso ma meno male e tu c'è in avanti sterma la mano con il baban e ho visto e scatta il vent su ma partire ma il baban è sempre lì tirano fuori al baban e gioccio tirano fuori al baban e giaron tu le barda un po' tu forse per brui una sistemazione due lupe d'acca certo che in macchina l'elenic boomer che tu sguira il fornillo senza che la gente disavvarda che stermi è vero è vero la gente è dei maiali la gente è dei maiali la lintelna anche se tutti lo fanno una banda in cupia fa tutto una volta anche se tutti lo fanno e a tutti hai piato tirano fuori al baban e non tuvi tirano fuori al baban e gioccio tu le bandescento forse per brui una sistemazione e due lupe d'acca tirano fuori al baban e gioccio tirano fuori al baban e gioccio tu le bandescento forse per brui la sistemazione e gioccio e gioccio tirano fuori al baban e gioccio tirano fuori al baban e gioccio tu le bandescento forse per brui la sistemazione e due lupe d'acca tirano fuori al baban e gioccio tirano fuori al baban e gioccio il bandescento forse per brui per brui e gioccio per brui e gioccio Ioli, la vadocigale, piramorica e risveglio, maestro pregativo, torna, torna, Valerio sempre vivo. I tre lì lo vi ringraziano con tutta la banda presso, grazie mille, grazie per questo invito, grazie. Grazie.